Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Siamo di nuovo qui perché Joe è stato taggato da Melania Costantino per il Cinefan Tag che è stato ideato da Sarah Magic 15. Allora, io leggerò le domande e lui vi darà le risposte. Allora, signor Villani ci dica, da quanto tempo sei appassionato di cinema? Da tanti, tanti anni. A dire il vero non è che ho iniziato prestissimo, ho iniziato più o meno a essere appassionato quello che andava al cinema cento volte l'anno quando ho vinto la Torino, dagli anni 90 praticamente. Qual è il tuo genere preferito? Mi piace il cinema d'autore. Vai spesso al cinema? Quando ero a Torino spesso, adesso vado poco. Poco che è comunque una volta a settimana col Cineforum. Però prima vedrò cento film l'anno, adesso ne vedrò una trentina. Preferisci il film in 2D o in 3D? Assolutamente il 2D, perché il 3D sono convinto che distragga troppo dalla trama. Nel senso che il 3D è uno specchietto per alloggio che crea attrazione e rende passabile qualsiasi schifetto. Il primo e l'ultimo film che hai visto al cinema? Il primo film che ho visto, piccolino, fu Sansone e Dalila di Cecil B. De Mille con Victor Macher e Hedy Lamarr. Un pepium storico, un polpettone storico. L'ultimo, l'abbiamo visto al Cineforum l'altra sera, è stato Le ricette della signora Toku, un film giapponese. Tendi a vedere più volte un film che hai già visto? Sì, alcuni film che ho visto che mi sono piaciuti li ho visti dieci volte almeno, quindi è una cosa che mi capita spesso. Non mi ricordo che domanda ti ho fatto. Andiamo bene. Fra trama, cast e regia, cosa ti spinge di più a vedere un film? Regia. Compri i DVD dei film che ti sono piaciuti di più? Sì, infatti ho recentemente comprato alcuni DVD di film che mi sono piaciuti. Peccato solo che uno l'ho comprato e non riuscirò a vederlo perché mi sono accorto che era rotto il DVD e non parte. Hai dei film preferiti? Sì, no tantissimi, però va bene, ne dico qualcuno proprio, Les Enfants du Paradis, Amanti perduti di Marcel Karmé è mio preferito. Mi piace molto il posto delle fragole di Marberman. Mi piace Le Onde del Destino di Lars von Trier, mi piace Il Nuvole in Viaggio di Aki Kaurismaki, mi piace Vogliamo Vivere di Hans Lubitsch, mi piace La Grande Illusione di Renoir. Tantissimi, sai, finché mi piacciono, l'ho detto qualcuno. Guarda, non ce ne eravamo accorti. Aspettate che si è bloccato il telefono. La prossima volta me l'hai detto io. Questa valletta è un po' latina. No, ma valletta, non tu che ti dilunghi, vabbè. A questa rispondo io. Se un film ti piace, inciti altre persone a vederlo. No, le obbliga, le obbliga. Ma io non ti ho ancora obbligato a vederle, sono fatto Fradis, che è il mio film preferito. Perché ti ho minacciato. Lo guardiamo stasera, tre ore. Guarda, là c'è la porta, se giri a destra trovi la porta d'uscita, vedi da andare. Guardiamo nei prossimi giorni. E niente, poi c'è il tag, tagghiamo chiunque. Tagghiamo chiunque, chiunque sia interessato a fare questo tag, lo tagghiamo. Giusto? Ringraziamo Mel Cost per l'idea. Siamo stati abilissimi. Ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Ciao!